E' partito il progetto finanziato dal Ministero dell'Interno, dalla città metropolitana di Reggio Calabria, in collaborazione con il Comune di Gioia Tauro, a Spromonte in città, il Parco dei Cardi. Ai nostri microfoni il primo cittadino gioiese, Capitano Aldo Alessio, ci ha spiegato come nasce l'iniziativa e quali sono gli elementi fondanti che porteranno avanti un progetto di pianificazione e valorizzazione territoriale così importante. Il progetto nasce attraverso un finanziamento che ha ottenuto nella città metropolitana di 118 milioni di euro con finanziamenti PNRR, dove noi abbiamo partecipato con un nostro progetto singolo. A questo punto ci dovevamo inventare qualcosa e siccome il progetto della città metropolitana si chiamava Spromonte in città, abbiamo intuito che bisognava portare in città la bellezza naturale dell'Aspromonte. E allora io ho fatto riferimento alla mia infanzia, negli anni 50 e negli anni 60, ho vissuto ai margini della città, ero un ragazzo dei margini e quindi c'era questo opificio che era la Gaslini che produceva olio dalla Sanse Sausta e noi giocavamo alle spalle di questo edificio a pallone. Intorno a questo edificio crescevano i cardi che noi chiamavamo cartoni e i fiori che facevano avevano dei semi di cui gli uccelli erano ghiotti. Quindi c'era una grandissima presenza di uccelli e soprattutto dei cardellini. E allora mi sono ricordato di questa mia infanzia, di questo mio contatto diretto con la natura e ho posto all'ufficio tecnico l'idea progettuale di creare le condizioni della natura degli anni 50 e 60 intorno a questo opificio adesso degradato e abbandonato per permettere alle nuove generazioni, ai ragazzi di oggi, alle scolaresche di poter venire a contatto con una parte della natura che io avevo conosciuto negli anni 50 e 60.